Il passato come sabato scorso è lontano, oggi ancora più di ieri esiste solo il presente, le risposte che richiede perché se è vero che la sconfitta di Novara non è paragonabile a quella di Perugia, è altrettanto vero che dopo dieci giornate aver raccolto solo un punto in cinque trasferte è un segnale davvero preoccupante. Così come lo è la classifica che vede l'Avelino penultimo con la terza peggior difesa del torneo, 13 reti incassate e il primo peggior attacco, solo sei gol realizzati insieme a Trapani, Vicenza e Pisa. Ed allora l'ultimo dei pensieri che ha Mimmo Toscano è quello di dedicare una Marcord agli anni passati a Terni. Perché stasera contro il suo passato Toscano ha solo un obiettivo, quello di vincere. Intanto qualche buona notizia c'è, ovvero il ritorno di Castaldo, Verde e Mokulu e anche la convocazione solo simbolica di Ardemagne. Le condizioni dei tre calciatori di certo non sono ottimali, l'unico ad avere più benzina nelle gambe è Super Gigi che si è allenato dalla settimana scorsa con continuità. Solo da venerdì hanno ripreso invece Verde e Mokulu. Due le alternative, o la riconferma del 4-3-3 o il 4-4-2. Nel caso di 4-3-3 in porta ci sarà di nuovo Frattali con González e Asma Tersini, in mezzo spazio ancora Perotta e Jim City. A centrocampo non si cambia con D'Aggelo interno destro e Paghera nel ruolo di regista. Il ballottaggio invece per il ruolo di interno sinistro è tra Lasic, disastroso al Piola e Crecco. In attacco è certa la presenza di Castaldo, se dovesse farcela Verde sarà a destra e su Mare a sinistra, altrimenti sarà riconfermato Belloni. Ma le sorprese non finiscono qui, perché se invece a convincere il tecnico fosse Mokulu, allora il modulo diventerebbe il 4-4-2 con Belloni e Lasic esterni di centrocampo e Dandolo e Paghera in mezzo. Bel enigma che il tecnico scioglierà soltanto poco prima della partita. Non è un enigma invece il fatto che in caso di risultato negativo sarà lui a pagare per tutti. A stabilirlo comunque saranno i prossimi 90 minuti. Sugli spalti al Parteno Lombardi non è di certo previsto il pubblico delle grandi occasioni e un clima serenissimo. Ma la Serie B è un patrimonio troppo importante da difendere. Poi arriverà anche il momento dei conti e speriamo che non siano troppo salati, altrimenti vorrà dire che il finale non sarà stato certo lieto come quello delle favole.